Dunque amici, rieccoci sul canale a portare qualcosa Genshin-like, possiamo dirlo Genshin-like? Nell'ultimo video, quando ho parlato del gioco di solo leveling, molti hanno detto Vabbè sì, ma non è proprio come Genshin, è più come Honkai Va bene, questo qua però è proprio Genshin, cioè è proprio un open world fatto come Genshin Con la grafica stile Genshin, ho visto il trailer, non ho visto gameplay Quindi non so che cosa ci aspetta, so solo che la scelta iniziale è la medesima di Genshin Scegliere il maschietto o la femminuccia, noi ovviamente selezioneremo la femminuccia No, non è vero, selezioniamo il maschietto e dobbiamo typare un nome Serio? Perché? Allora, non mi ha fatto modificare impostazioni, quindi prevedo stuttering vari Anche se in realtà no, ma almeno un po' di tearing secondo me c'è Beh, grafica super anime, che ve lo dico a fa' insomma, anche un po' forse ridondante Anche se boh, l'ambiente spaziale mi piace di più del fantasy, alla Final Fantasy appunto Vabbè, questo è coso, questo è Interstellar praticamente E invece adesso siamo in Kingdom Hearts Tra l'altro bellissimo Kingdom Hearts, almeno i primi... tutti i Kingdom Hearts fino a quando non è arrivato il 2 Dai, facciamo questo... Vabbè, classico, insomma, ci siamo trovati in mezzo alla... Bello però, graficamente, ah? Ecco, cosa dicevo quando... Dicevo che Genshin era inarrivabile da solo leveling Per questo, cioè guardate qui Sembra un anime in movimento Cioè, sembra un anime, non un gioco Cioè, sta cosa la puoi raggiungere solo con un buon rapporto di 2D, 3D Fatto bene, dei prospettivi, insomma Spiego C'è, c'è, c'è Isia e YangYang Va bene Ecco, forse solo questi dialoghi un po' così vecchio stile Vabbè, raga, io la storia la salto Anche perché, appunto Magari ve l'ho giocato da sole E anche molto meno colorato di Genshin Non è per forza una cosa brutta, comunque Ok, perfetto Isia Ok, no, niente, niente, a posto Non è successo niente Iniziamo a raccogliere roba Un coniglietto Guarda che bello che è Che è? Ah, sta successo i nemici Questi sono più tosti Ma ci sarà un Ma a parte questo Io volevo, in realtà, uno schivaggio Lama donna Che fa? Ah, me posso cambiare Vabbè, però scusami Aspetta, aspetta Voglio... come se cambia di nuovo in lui? Ah, ok È proprio come Genshin, quindi Ok, ok Se lui brilla e io switcho Succede che fa una mossa incredibile Della strana madonna Però io voglio schivare Ho trovato lo schivaggio Anche se non me l'hai detto Quanto mi piace di più Perché c'è anche il repost Diciamo, se te fai la schivata perfetta Non so se in Genshin c'è Però qua c'è Ed è bellissimo Dove sta? Sei andato? Io ho sprecato Ok Una cassa? Belle Belle esteticamente Tutto bello Ma non si può avere in italiano Sto cazzo del gioco No, ovviamente Ovviamente no Se puoi avere in francese Se puoi avere in tedesco Io veramente provo rabbia Non perché non capi Ma io lo capisco l'inglese ragazzi Lo capisco Ma se sto facendo altre robe Non mi posso concentrare a capire E poi Che va appunto Adesso sto parlando Che fatto cosa? Vabbè sono i Le statuette di Genshin Quelle che ti fanno un po' di Sì ho capito Quante volte me lo devi vinde Come Genshin E come in realtà Zelda Perché Zelda prima di Genshin Non l'ha fatta sta roba Se può Prende roba In momento Zelda con La panoramica da sopra Proprio lui Non esattamente come quello Però sì Ragazzi Io vi devo far vedere sta cosa Perché Lui si sta a guardare il gioco Questa ve la metto in edit Perché È troppo carino Lui che si guarda il gioco È veramente simpatico Sì sembra molto impressionante Sì Ma l'hanno fatta bene La La fisica delle zin Perché Cioè In un gioco asiatico Ti viene un po' da chiedertelo Non so perché In realtà Però viene un po' da chiedertelo Che cazzo sta succedendo Oh signorina Abbiamo il glider Come Se Vabbè faccio così Ok Che animazioni un po' più indecisi Che cazzo è? Bello come mostrino Dai Bello il design E continuo a dire che Soprattutto sui primi piani Sulle Sulle facce Sulle roba Qua sta succedendo roba Intanto Continuo a dire che È veramente figo Sebbene molte persone Che mi conoscono Direbbero Ma stai bestemmiando Perché Cioè Sanno che non è proprio Il mio tipo di gioco Devo dire che La qualità si riconosce Ragazzi Anche qui Figo Figo Molto figo Ah una cosa Mi sono dimenticato di dire A parte che Lui è fighissimo Eh Pare che Qua si è locca Pare che I developer Siano Molto attenti Alla community E quindi Ascoltano di Aia Che calcio in faccia Ascoltano di Continuo la community E stanno facendo degli Improvement Al gioco Proprio sulla base Del feedback Della community Questo È Molto good Soprattutto per una Software house Credo coreana Ah ragazzi Cioè Gli sto a menare talmente Tanto che Vedi Questo mi piace Perché in Genshin Bene o male Non è tanto una questione Di saper menare È una questione Di saper buildare Invece questo è più Hack and slash Da quel punto di vista Molto più vicino a titoli Appunto tipo Devil May Cry Però Io devo Ecco Beccarlo così Bello ragazzi C'è il Perry Ma di che cazzo Stiamo parlando C'è il Perry Bello C'è il Perry Il Perry la schivata C'è Bellissimo Bella 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 L'animazione Ok ripetuta Ma bella Bella Le animazioni Bello tutto No Se ho capito bene Quello che è successo Ragazzi Se posso muovere una critica Troppi dialoghi Vabbè Insomma Siamo speciali Abbiamo accumulato roba Abbiamo fatto Che fa questo Semena Aia Aia Semena Più che altro Ah proprio lui li assorbe Assorbe tutti Ma guardate che bello Cazzo Graficamente Lo so che mi ripeto Ma è figo Cioè ti viene voglia Di continuare a giocarlo Ora vedremo quanto Perché è un Gasha Ovviamente Vedremo Quanto Questo aspetto Da Gasha Quindi da Shop Insomma costante Sarà presente Però Abbiamo ottenuto L'eco del Resonator Che cazzo vuol dire Oh Ebbene sì Ogni Mostriciattolo Ha i suoi effetti Transformati nello Stormwall Bracer E charge E charge in avanti Perfetto Ma scusa E quello che di prima Non c'è Che fa sto coso Ok Oh posso Wait Perché quelli di Ah no perché questo è diverso No Ragazzi Ragazzi C'è l'aspetto Collezionistico Assorbili tutti Cioè Acchiappali tutti E assorbili tutti Queste assorbili tutti E li posso Traccare Perché li posso Traccare Perché li livello Cattolandone degli altri Non mi dico sì perché Cioè Svengo Spets Spets Guardalo Guardalo Io posso mettere lui E lui E questi sono i nuovi oggetti Praticamente Cioè io non buildo con gli oggetti Ma buildo con Forse in realtà ci sono anche gli oggetti Che sto dicendo una cazzata io Ok Albero delle abilità Basic Ma molto carino Qua c'è Samy Ovviamente anche lei Può equipare qualcosa Figo Però non li possono equipare insieme Ok Quindi se ce l'ha equipato uno Non puoi equipare l'altro Ci sta E quel nuovo cosa fa Ok Quindi a seconda di chi è primo Io posso attivare O non attivare Il mostro E si possono anche potenziare Ok Ma come si attiva il mostro Me l'ha detto O sì O so coglione io So coglione io No sono i tartarugozzi Allora molto volatile comunque Il discorso Il discorso schivaggio Perfetto Però vi dico È una cosa che a me Continua a piacere Non è una cosa che mi dispiace Anzi Perché fino a quando Permane la scivolata Oh sì Assorbito tutto Te prego Oh sì Horror toys Figo 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 Come poche cose in realtà Ultimamente Allora graficamente c'è C'è l'aspetto collezionistico Dei mostriciattoli Spero Vabbè insomma i cosi qua Come c'erano anche Genshin Lui come mostro Sembra molto figo E anche molto pericoloso E diciamo che Ci sono gli elementi Per una bella roba Ci sono gli elementi Per avere Un bel po' Di divertimento Ma io gli sto A mena durissimo Ragazzi Cioè ma di che cazzo Stiamo a parlare E io ve blocco pure Sì? Sì Eh raga c'ho Coco Sulla tastiera Ragazzi la qualità iniziale È altissima E questo è quello Che mi sta facendo urlare Quasi al miracolo Beh questa è tipo Una sorta de pass Perché la qualità iniziale È altissima E ha i livelli Di Genshin Attuali Penso io Lui buono E misterioso Cioè Bello anche stilisticamente Dato quelle No vabbè figo dai I leoni Barra tigri All'ingresso Che hanno la testa meccanica Le stas Cioè no figo Beh tutto molto asiatichello Qua molto bello Molto molto bello Guardate qui Dettaglio Ah ok Abbiamo ottenuto Quella più fastidiosa Grazie Hold to open quest Ok La mappa Tutta ovviamente Da scoprire Per essere un gioco Che è uscito Di recente Quindi Comunque un game A service Importante Tipo appunto Quello di Genshin La mappa è bella Grossa Non è brutta Non è Non è penosa Ci sta E che io lo so Che non ci voglio Perder troppo tempo Perché poi so Che mi affeziono E questo è un classico Tipo di giochi Che punta A spillare soldi Ma non Non con cattiveria È il tipo Di Di format È il tipo Di prodotto Che funziona così Però mi piace Non voglio giocarci Troppo Perché so che mi porterebbe A dannare La mia stessa esistenza Però bello Io ovviamente ragazzi Sto saltando tutti i dialoghi Perché Eeeh Sembra proprio L'arasaka tower Te che dici Coco È ancora lì ragazzi Che se guarda il gioco Cioè Dicevo appunto Arasaka tower In pieno stile Non che mi dispiaccia Anzi Molto figo Ma ti follow Però devi andare un po' più veloce Signorina Che comunque portano Tutte la stessa taglia Di reggiseno Curiosa comunque Come cosa Te dice Ma che vanno Da Lo so No forse lei Forse lei Cela diversa Figa comunque lei Esteticamente Dico Come personaggio Sembra molto carino Ah lei ce l'ha nell'occhio Vabbè però Ragazzi Questa è un po' la solita solfa No Arriva Siamo tutti speciali Tu sei speciale E ben Dopo dieci minuti Credo di tutorial Cioè no di tutorial Di dialogo Ecco il gioco Cioè si continua a giocare Troppi dialoghi ragazzi Ci sta che è l'inizio Ci sta che uno deve Introdurre il mondo Le cose Però ragazzi Mio dio Anche tu stai dialogando Un po' troppo Fatto il livello 3 Non so perché Qua è pieno di signorine Una signorina molto ina E ancora Ovviamente Dialoghi Ma sarà come Genshin Che ci sono Cioè c'è Sicuramente Livello account Livello personaggio Ma io voglio pullare Il gioco Posso pullare Come se pulla In questo gioco Posso livellare Il personaggio così Diretto Ci sta Fatto una cazzata Probabile Oh Ma che cazzo Stai a dire E mi ricorda Quell'altro gioco Che non è mai più uscito Project Mugen Purtroppo non è ancora uscito E spero che esca in realtà E mi ricordo quello Mi ricorda molto quello E anzi Non si è saputo più un cazzo Da quello che so Comunque sta Sto gameplay sarà Io che Io che Parlo con gente E voi vedrete Io che Schipo Dialoghi su dialoghi Su dialoghi Che è Oh fuck Ma io sbaglio Perché voglio usare Il cerchio Per schivare E invece no Entra nel mood Di Genshin E non nel mood Devil May Cry Allora I combattimenti Ragazzi Sono fighissimi Cioè Hai la sensazione Che anche se sei Under livellato Se sei bravo Poi menaglia La gente Non è Magari ti pigliano E ti one shot Se ti pigliano Però Poi rosico tantissimo Perché se dovessi iniziare a giocarlo Poi vorrò portarci qualcosa su youtube Ma io non so esperto Di sto genere Di giochi Cioè Andate a seguire Ghandis Queste robe qua Raga Ve lo consiglio Però rosico Perché vorrei esserlo Cioè Nel senso Vorrei A questo punto Portare qualcosa Se mi piace E quindi no È meglio che non mi piace Sto gioco Non me lo faccio piacere Però guardate qua Che figlio Non so manco Cosa è successo Ma è fighissimo Questo guardate Cioè Questo si Mi attacca con la musica Ma di che stiamo a parlare Perché mi sono curato Che cosa è successo Sono morto per caso No vabbè Lei è fighissima Nel churlo proprio Oh Gustoso Devo dire gustoso Oh Bello Mi dà molto di arpia E forse lo è Ma figo Come è stato fatto il design Ok La cosa laggante No però Molto figo No ma no Io lo volevo combattere Certo magari sono a merda Ok praticamente Se ho capito bene Abbiamo sbloccato La possibilità di Di pullare Possiamo pullare Adesso Grafica del pulling Molto figa Viola Ah vabbè lei Comunque lei è molto figa Molto forte Anche esteticamente Molto figa E vedi Abbiamo possiamo Abbiamo del pulling Abbiamo air pulling Vabbè insomma Signorine Che fa questo Ah devo selezionare No vabbè ma quanto sono fighe le armi Ma io voglio questa Ma guarda quanto è figa Abbiamo 40 di stipul Oddio Lui dai lui Lui Phantom Hunter Guardate che figo Mannaggia al cazzo Bello Ma ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo un bigliettino 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 Attenzione Guardate il design Cioè Questa è droga ragazzi E lo so Mi sto ripetendo Lo so Ne sono consapevole ragazzi Però questa è droga Ci sono varie valute Sto notando Cioè quello per droppare le armi Quello per droppare i personaggini di un tipo Quello per droppare i personaggini Cioè ci sono vari banner Il termine tecnico Deve essere banner E niente Robetta dai Ci sta Ci sta Non possiamo essere fortunati Per sempre Questo abbiamo 30 Possiamo pullare 4 volte E qui glielo darei una pull da 10 Che dite Viola Attenzione Perdita di diottrie Arma Niente Mi aspettavo di più Ah ok 4 stelle Ottimo 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 Un bel pull Un bel pull E un altro Che ne possiamo fare Un altro viola Vabbè questa l'abbiamo già beccata prima Chi è questo No questo è quello che mi piace meno Esteticamente Ah poi non so A livello di Combattimenti Fight Insomma come si gestisce Però è quello che mi piace meno Possiamo far Possiamo farne un altro Nandro viola Ma a questo punto mi sa che è tipo assicurato Mortify Perfetto Il figo di prima Questo da mettere in squadra Abbiamo da fare altri 4 di questi Massi dai Un altro viola Arma viola questa volta però Niente personaggino viola Ci sta Comunque Ci potenziamo Sempre la stessa arma viola In più Abbiamo due personaggi che abbiamo già droppato E lui ce li ha convertiti In questa roba Che non so che cazzo voglia dire Non te lo hanno spiegato Meno a me non me l'hanno spiegato Però intanto noi Puliamo ancora Le armi sono sempre le stesse ovviamente Come su Genshin Quindi non mi aspetto di più Pistolero Si chiama Alto Mi piacciono Mi piacciono quelli con le armi da fuoco Quindi quasi sicuramente lo metterò in squadra Poi ne sto parlando come se continuere a giocare Come se continuere a giocare Perché mi sta piacendo così tanto Che lo do per scontato Che una partita me la faccio E che non voglio shoppare In questo genere di giochi Ehm Ehm Dobbiamo capire Devo capire Quanto è fattibile free to play Cioè quanto è fattibile giocarlo Free 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 Guardate qua quanta roba adesso che abbiamo Cioè Ah lui lo voglio E quello Il pistolero no? E gli posso cambiare l'arma giustamente E gli do questa Che è livello 20 Cioè fa 24 di danno Lui Che gli possiamo da questo? Gli possiamo da uno di questi? Ok perfetto Si buildano così Gli do questo E poi E poi E poi C'è lui Molto figo C'è lei molto timidina Molto wifina Lui è figo in culo Ma scusami a questo punto Abbiamo anche il personaggio nostro no? Le voglio mettere un'arma pure a lui Un'arma bella C'è questa 33 Ok le vedi proprio fisicamente che le met... Figo Figo Come la cambio la squadra? Ah vedi di queste mi ho dato prima Ah Gli do uno di questi Quindi ripullandoli Li potenzio Giustamente Vabbè raga però questo è l'inverno Cioè questo è il paradiso degli sciopponi Non mi dite il contrario Perché tu scioppi Dici tanto male che va Pi potenzio il personaggio che sto buildando Che sto facendo Cioè Ecco qua il team Ah ma solo tre? Peccato Vabbè metto questo E adesso se la giocano lui Mortify E Alto Beh Alto mi piace di più Guardate come siamo belli Tutti belli Mecciati con i colori E ancora Dialoghi Vabbè questa è una missione proprio del cazzo Cioè devo prendere sta parte Nel frattempo Pupparmi 20 dialoghi E dobbiamo portare la parte a lui La parts L'oggetto No raga basta Io voglio menare la gente Ve prego Fatemi menare qualcuno Vabbè raga Eeeh Direi che anche basta Senti Che cosa vuoi adesso? Ah possiamo Figo Possiamo far passare il tempo Tempo molto velocemente Ok Va bene ragazzi Io direi Ci fermiamo Per adesso Lo continuerò a giocare Da solo adesso Senza registrare Anche perché sennò veramente Il video dura Quattro guzziliardi di minuti Eeeh Che dire Al di là dei dialoghi Che sono troppi Per quanto mi riguarda Lui sta parlando ancora Mentre io sto parlando Al di là dei dialoghi Devo dire Molto 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 Carino Veramente Bravi Perché è bello Ah tra l'altro qua mi posso trasformare Non me l'aveva detto prima Il pezzo di merda Bello Cioè forse me l'aveva detto Ma non l'ho capito Vabbè comunque Raga Veramente Bello Veramente ispirato Graficamente Un degno concorrente Di Genshin Impact Da quel punto di vista Se dal punto di vista estetico Che delle animazioni Qui un'animazione Un'animazione Cina ecco Di cambio personaggio Ci stava In realtà Però Bello 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 Fatemi sapere cosa ne pensate Nei commenti Se lo state già giocando Se non lo state giocando Il perché non lo state giocando Io ho veramente paura Di caderci Perché non vorrei Caderci dentro Questo tipo di giochi Però è bello E figo proprio È proprio bello Fatto bene Mi piace il fight Mi piace il combat system Bello 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 Non ho altro da dire L'aspetto collezionistico Dei mostricini Bello Commenti Fatemi sapere cosa ne pensate Un saluto a tutti gli amici Là fuori I giocatori di Watering Waves Scusatemi se Non ho trattato il gioco Con la professionalità Che il gioco richiede Ma Io sono un giocatore Cazzaro E per oggi è tutto Ci vediamo Nel prossimo video Scusate